Il Presidente del Consiglio viene eletto a suffraggio universale, diretto ovviamente, viene eletto contestualmente alle Camere con unica scheda, viene rinviato alla legge elettorale, alla definizione della legge elettorale, la responsabilità di garantire una maggioranza al Presidente del Consiglio eletto. È prevista una norma antiribaltone, cioè in caso di dimissioni, di impedimento, di sfiducia, il Presidente eletto può essere sostituito in un unico caso solo da un parlamentare, quindi fine dei governi tecnici, da un parlamentare della maggioranza, quindi fine dei ribaltoni e solo per realizzare il programma di governo e le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio eletto. Quindi non c'è più, diciamo così, la possibilità di costruire maggioranza e arcobaleno per realizzare programmi che nessuno ha votato e c'è invece la previsione di una norma di garanzia sempre rispetto alla stabilità di continuità per quella maggioranza di portare avanti quel programma, quindi un elemento che rafforza ulteriormente secondo noi la stabilità della legislatura. Questo può accadere però solamente una volta, in caso di ulteriori problemi o in caso in cui il parlamentare eletto non raggiunga la fiducia in Parlamento si torna alle urne. Vengono aboliti i senatori a vita, fatto salvo ovviamente per gli ex Presidenti della Repubblica e fatto salvo chiaramente il fatto che rimangono in carica gli attuali senatori a vita, ma noi abbiamo creduto che anche questa norma fosse necessaria particolarmente dopo il taglio del numero dei parlamentari, perché l'incidenza dei senatori a vita chiaramente è molto aumentata rispetto al numero dei parlamentari che oggi c'è.